Radio Salerno 24 Stiamo trasmettendo dalla città di Eboli, provincia di Salerno Ovviamente siamo in po' delle prove tecniche Nel frattempo ci ascoltiamo questa bellissima canzone di Marco Mengoni, Sai che? Di gioia serena, ricordi com'era Che tutto splendeva Io volevo te, tu volevi me Avevamo davvero felici con poco Non aveva importanza né come nel luogo Senza gigante giudarsi per sempre Non è nel modo che un'altra Sperare nel mente Sai che? Ho cercato un modo per dimenticare Se volete chiamare in diretta potete farlo al numero 331 99 008 55 Oppure mandando un messaggino al numero whatsapp 338 20 59 142 E non c'è Un motivo per te Forte le volte E Per tutte le belle E E voluto te, tu hai voluto me Eravamo davvero felici con poco Non aveva importanza né come nel luogo Senza fare i giganti e giurarsi per sempre Ma in un modo non spero niente Aver fatto di